Siamo qui al Circolo e Bo, un'altra serata organizzata da Sherpa Live. Abbiamo il piacere di fare qualche domanda ai giornalisti, quindi innanzitutto grazie. Grazie a voi. Bene, allora partiamo dal nuovo album, che è stata una sorpresa, nel senso che suoni diversi, anche la tonalità, il timbro vocale diverso. Ci sono riferimenti ovvi, vi avranno detto, immagino tutti, dall'anni 80. Ci sono anche però, oltre al pop di fondo, delle influenze per così dire dream pop. I timbro, ci sono alcune canzoni, per esempio, L'importanza del cielo, dove almeno io sento qualcosa dei Beach House. Quindi, volevo sapere, appunto, sono riferimenti veri? Quali sono gli ascolti della musica anni 80, se è New Order, se sono... No, la risposta a questa domanda, tanto, è sì. Quali sono, appunto, i riferimenti agli anni 80, o se, appunto, c'è questa scia di dream pop nelle canzoni? No, ti dico... ti racconto un aneddoto. Non ci veniva l'importanza del cielo in studio, non girava per come l'avamo fatta. Cioè, era nata in un modo. Siamo andati in studio, l'abbiamo registrato e non girava il pezzo, nonostante la bravura di Cantaruppi, che è stato il produttore del disco, artistico, perché il produttore, quello vero, sta lì. E a un certo punto, di notte, dormiamo in albergo tutti insieme, abbiamo detto ragazzi, ma perché non la facciamo identica a un pezzo dei Beach House? E quindi, uguale, identico, perché non copiamo il Beach House? Abbiamo copiato il Beach House, il Meet, la canzone, peraltro, più bella che io abbia conosca, e è venuta bene anche quella. E il nostro produttore sta facendo questo segno qui, che buono. E quindi, sì, abbiamo... Ci sono stati dei riferimenti anche molto più contemporanei di quello che si possa aspettare ascoltando il disco, per esempio in Beach House, per esempio gli Horrors, in Sonia, per esempio, è una... Quante volte è tutto, per esempio? Vabbè, sti cazzi. Per esempio, anche l'Ame. L'Ame, che è un gruppo che ci piace tantissimo, che stiamo andati ad ascoltare la Primavera Sound, sono veramente interessanti, belle. Per esempio, anche gli Strokes. Gli Strokes sono sempre stati. Sì, sì, no, però gli Strokes sono sempre nuovi. Gli Strokes che fanno gli anni Ottanta. Che suoneranno allora il Primavera, adesso. Esatto, esatto. E oltre a queste cose più contemporanee, abbiamo fatto una commissione di queste cose qui che ti abbiamo appena detto e quelle più classiche italiane degli anni Ottanta. Allora, ho letto che avete scritto circa 30 brani, prima di arrivare alla scrematura di questi dieci brani finali. Un pezzo in particolare, per esempio, per lei, non era nemmeno pensato inizialmente per essere inserito nel nuovo album. Assolutamente, no. Perché era un po' troppo, era nato molto Patti Bravo. Cioè, era quasi una canzone di Patti Bravo. Perché aveva delle strofe... A voi sentite solo il ritornello, cioè voi quello che sentite nel disco, è solo il ritornello della canzone. E la strofa è stata segata. Perché era ancora, strascicava ancora un po' di rock beat, quella roba lì. Perché è stata una delle prime canzoni che abbiamo registrato dopo vecchio. E poi Nicola, in studio, perché se non lo diciamo, adesso visto che è la prima volta che lo sto dicendo, adesso deve stare ancora all'erico. Nicola ha detto questa canzone delle strofe. Ha detto, ragazzi, perché non seguiamo le strofe? E noi abbiamo detto, seguiamo le strofe. Seguiamo, no? Tagliamo. E niente, scorreva benissimo e abbiamo... E poi alla fine è diventato quasi un po' l'inno del disco. Tant'è che si chiama Fuoricampo, l'album, perché quando partiva per lei, Volevamo chiedervelo per farlo. Allora, se vuoi andare a fare la domanda, quando partiva per lei all'inizio, stavamo tutti su registrazione, ci mettevamo tutti così, tipo, presi bene. Poi ci è venuto in mente, questo è il gesto che fa il battitore del giocatore di baseball, quando sta indicando che sta per fare un fuoricampo, quando indica che sta per fare un fuoricampo, che quando gioia vuol dire che tira la palla oltre i limiti del campo. Non è relativamente acculturato. Quelli forti lo fanno andare addirittura oltre lo stadio, ma secondo me è un film che io non l'ho mai visto fuoricampo. Invece quelli normali, ma forti, lo mandano in tribuna. Ma se la dichiari e poi tipo cicchino... Eh, lì... Figura, le figure è in merco. Avete, secondo me, anche aumentato i vostri fan, no? Con questo nuovo album. Abbiamo una... Non si sa, ancora non abbiamo ben capito come funzionano queste cose, perché sui social ancora non siamo superseguiti. Non abbiamo dei followers che hanno dei nostri contemporanei, artisti contemporanei che sono molto invece più... Però in realtà poi ci conoscono tutti, quindi c'è ancora una timidezza nel mettere il like alla pagina Facebook, però tra un po' verrà scardinata, secondo me. Come era quella cosa che hanno scritto dei Duran Duran? Sì, sono... Un ragazzo ha scritto una volta una affermazione che ci è piaciuta tantissimo, che dei giornalisti sono un po' quello che erano i Duran Duran negli anni Ottanta, cioè piacevano a tutti ma non si può dire. Un po' quello che era la vicina, in realtà... Eh... La votata la matuta! Continuando a parlare un po' di sonorità, e adesso appunto vi sentiremo live, mi chiedevo, i suoni del disco non si adattano troppo live? Cioè come state lavorando sui live? Che trasformazioni avete fatto? Come vi adattate a una... Bene, Luca, rispondi! Eh, sai... Vuoi tenere... No, te lo tengo io! Te lo tengo io, te lo tengo io! Che è vero lavoro, lo sto facendo io live praticamente! Questo è vero! No, vabbè, semplicemente abbiamo messo delle basi, abbiamo inserito delle basi e dei suoni finti... Abbiamo dovuto lavorare un po' sui suoni! Sì, abbiamo fatto una bella produzione live, cosa che prima non abbiamo fatto, perché quello che facevamo in studio praticamente rifacevamo live! Chitare basi e batteri è difficile! Eh niente, adesso abbiamo fatto un lavoro un po' più... È bello crescere e porsi nuovi obiettivi, no? Quindi alla fine è stato un lavorone, però alla fine ci siamo divertiti, adesso più o meno viene bene! Viene bene, lo vedrete! Non vediamo l'ora di ascoltarvi! Faccio più che altro una considerazione, visto che molti appunto vi paragonano a Dalla, da cui sicuramente avete tratto ispirazione, io in realtà ho notato che, ok, sicuramente si percepisce la conoscenza di Dalla, ma i vostri temi sono molto più terreni, a volte Dalla era molto più surreale, diciamo, e voi siete molto più terreni e anche attuali nei temi. Come avete deciso di affrontare queste tematiche? Sì, perché c'è un glossario diverso che è cambiato dagli anni 70, fino ad anni 70, da oggi, è cambiato il glossario, quindi sarebbe anche anacronistico spendersi in quei termini, a parte che è un glossario di Dalla che va molto anche sull'immaginifico, sull'immaginazione, ed era un poeta veramente inarrivabile, comunque creava delle metafore che poi sono state sempre seguite nel tempo, anche se oggi io mi chiedo spesso se un pezzo come Profondo il mare, che comunque è una canzone sopra ogni concezione astrale, però se oggi fosse scritta una canzone come Profondo il mare, secondo me sarebbe quasi incapita, perché non sarebbe capita, cioè non usava altri termini di paragone, altri... e parlava in maniera diversa, invece noi alla fine la nostra caratteristica è che uniamo a tutta la derivazione da cui prendiamo, che attingiamo negli anni passati, comunque diciamo che il linguaggio lo cerchiamo di rendere più contemporaneo, accessibile possibile. E ci riuscite. Grazie. Io ho due curiosità. Allora, la prima, vi siete trovati a un certo punto tutti d'accordo su ritornare appunto agli anni 80, cioè la vedete un po' come, non lo so, l'età d'oro della musica, o... cioè, com'è possibile che... Un po' un... Vabbè, partiamo dal presupposto che noi comunque con i dischi precedenti, soprattutto col secondo, quale secondo? Con il secondo disco, ci siamo tolti un po' un peso, uno sfizio che avevamo, cioè noi abbiamo sempre ascoltato un certo tipo di musica, molto anni 70, insomma, no? Quindi una volta fatto il disco molto anni 70, chiamato pure vecchio, eccetera, ci siamo tolti questo peso e quindi ci siamo... Abbiamo finalmente avuto... Ci siamo tolti questa zavorra e potevamo finalmente volare nei tempi attuali. Poi il fatto che nei tempi attuali vada molto... Gli anni 80 fa sì che il nostro disco in realtà abbia le solità molto anni 80, però noi in realtà penso che abbiamo fatto un disco moderno più che un disco agli 80. Sì, volevamo alleggerirci e... Ci volevamo alleggerire e penso che ci siamo riusciti e abbiamo alleggerito la gara. Anche mentalmente, non so, un po' di fattori che contribuiscono a questa cosa e secondo me gli anni 80, per esempio, vengono in mente i righeira, aiutano a... No, aiutano proprio a... stare un po' più rilassati senza stare lì a fare... Però per rispondere alla tua domanda se eravamo tutti d'accordo? Sì, nel senso che comunque finora dalla prima nota che abbiamo... cioè noi tre che suoniamo da un sacco di tempo, poi vabbè, cioè anche Gabriele... Che palle, Gabriele! Che sia giù! Sei mai d'accordo, Gabriele? Qua non lo riusciamo! Perché no, è un ragazzo difficile abbiamo cercato di... di toglierlo dalla strada. E comunque, vabbè, a parte... Principino! Il nostro principino, se ti vedete dopo... Insomma, diciamo che dalla prima nota che abbiamo fatto insieme noi tre che in realtà ragioniamo nello stesso modo e quando uno dice oh, facciamo! E l'altro risponde gli anni settant... Cioè, hai capito? Ci ragioniamo abbastanza nello stesso modo forse anche perché comunque vivendo praticamente insieme, stando spesso insieme noi parliamo tanto e quindi... Suoniamo poco e parliamo tanto. L'altra curiosità così me le tolgo tutte e due il vostro rapporto con la scena musicale italiana che devo col sesso mannaggia... Quella era la terza curiosità e volevo lasciare alla fine però, vabbè, se vogliamo parliamo anche ora e se mi volete dire voi qualche nome che... oppure anche della scena internazionale però attuale Qualche nome che ci piace? Io vorrei sapere il vostro rapporto intanto con la scena musicale italiana Ci sono dei... Grazie al... Grazie all'andare in giro anche alla mediazione che fanno i social perché non hai bisogno di essere un amico personale per sentirti con qualcuno ti scambi delle opinioni dei messaggi con i tuoi colleghi qui io devo dire che abbiamo un ottimo rapporto con tante persone a partire da Federico Fiumani che qualche anno fa... No, qualche mi sembra troppo due anni fa Un anno fa? Due anni fa Un anno e mezzo? Sei anni fa? Sì, due anni fa comunque si prese proprio sotto la sua ala protettiva Un papà È stato... E da lì poi sono incominciate delle... abbiamo conosciuto per esempio lo stato sociale con cui abbiamo un rapporto molto in amicizia ci sentiamo spesso visto che Lodo Quenzi nel gruppo del fan club infatti vi consigliava pure Ah, grande vedi no, ma io sì, no regaliamo anche scene molto divertenti quando ci vediamo insieme e ci sono delle persone per fare poi i tacchini con i galletti cioè quindi comunque ci divertiamo facciamo delle cose divertenti insieme perché ci piace moltissimo cioè noi crediamo non solo per moda nella musica indirendente perché ah, sì se è quella a noi non ce ne frega niente ma neanche a loro in realtà di essere dichiarati ci piace proprio le cose che scriviamo cioè secondo me sono molto più interessanti non parlo di noi dei giornalisti proprio questa scena racchiude dei tesori molto più belli di quello che uno di quello che poi la fama dice che siano capito cioè la nostra fama non è ancora molto sviluppo grande sviluppata ma in realtà secondo me ci sono delle già dei bei dei bei capolavori messi un po' spiazzati un po' da una parte dall'altra della musica italiana cosiddetta indipendente d'accordissimo ma concorda? sì niente allora noi vi ringraziamo vi lasciamo al live veniamo a goderci questo live anche noi magari e magari ci vediamo al prossimo disco per una nuova intervista prossimo live insomma ci vedremo sicuramente grazie grazie a voi grazie insegnami a parlare con la bocca e con il cuore insegnami a giocare con la bocca e con il cuore grazie a tutti